Vi racconto una storia. La notte delle stelle cadenti, il 10 agosto scorso, presentavo il mio primo lavoro, Mentana, prodotto dalla Slam Production, etichetta inglese, nel festival di Acuto Jazz. Ma ero in compagnia di altri musicisti, nuovi suoni, un repertorio ampliato, tre brani nuovi, di cui due cantati, con un testo bellissimo, e abbiamo registrato. E questo live, adesso, è qui. È un disco bellissimo, che uscirà il prossimo 30 di giugno, sempre per la Slam. È stato registrato in un sito molto affascinante, che è la chiesa di San Sebastiano, una struttura medievale riccamente affrescata nel Cinquecento. questo live è stato fatto in compagnia di Diana Torti, alla voce, Andrea Polinelli, ai sassofoni e al flauto, Paolo Tombolesi, ai tastiere, e Cristina Patrizzi, al basso elettrico. È un oggetto bello, bello da avere in mano, da comprare e da aprire, da guardare, perché tutti i colori di questa grafica derivano da particolari degli affreschi della chiesa di San Sebastiano. lo troverete a partire dal prossimo 30 giugno. Tutti i dettagli saranno disponibili nei prossimi giorni, man mano che il tempo passerà e ci avviciniamo alla data d'uscita, sul mio sito, che vi ricordo è www.luciaglianiello.com www.luciaglianiello.com